Benvenuti a questa mostra che si tiene a Polizzi dal 7 luglio fino al 26 settembre a Polizzi Generosa nell'ex palazzo comunale. Io sono uno degli artisti che ha fatto e ha prodotto le opere che ci sono in questa mostra e vi invito a partecipare e a venirci a vedere anche perché è un momento veramente importante e culturale per il nostro territorio che ha bisogno di queste cose perché deve e dovrebbe vivere sempre di arte. Perché tutti i nostri paesi, la Soprana, Soltana, tutti sono Polizzi principalmente in questo giorno, vivono e devono vivere sempre di arte, noi non li dobbiamo lasciare morire. Allora, siamo 36 partecipanti tra scultori, fotografi e pittori, io sono un pittore, sono di Petralia e frequento l'Accademia di Belle Art.